Siamo qui nel laboratorio di robotica 4.0 del Galilei dove sono stati installati tre armistri e bracci della Comaon progetto PON che è stato effettuato dal Galilei insieme a Pearson hanno a disposizione una piattaforma dove vanno a studiare la componentistica delle macchine, i motori eccetera eccetera e poi fanno delle simulazioni qui nel laboratorio Ci viene messo a disposizione principalmente questo simulatore RoboSim che permette di avere un ambiente virtuale in cui fare le varie prove che poi possiamo riportare con i bracci Edo qui nel laboratorio di Industri 4.0 Ci sono due modi per utilizzarli uno è tramite i terminali di programmazione che sono quelli più grossi e un altro è tramite i tablet che è un modo molto più semplice i terminali di programmazione sono più complicati e vengono utilizzati durante il corso è un laboratorio che può sviluppare delle conoscenze delle ragazze importanti perché tramite l'utilizzo di queste macchine loro possono trovare la possibilità di prendere un patentino un patentino della robotica che è spendibile nel mondo del lavoro Per me è sempre stata una passione quella della programmazione della tecnologia in generale questa scuola mi ha aperto molte possibilità diciamo sotto vari punti di vista anche tramite questo corso e quindi